A uomini e donne manca davvero pochissimo, ormai, alla scelta dei vari tronisti ancora in gioco, specie a quella di Teresa Langella La ragazza ha annunciato di essere pronta a prendere la sua decisione, ma prima di farlo, ha compiuto dei gesti, che hanno lasciato tutti senza parole Il suo atteggiamento ha fatto infervorare Andrea Dal Corso il quale ha rivelato che non si presenterà in villa al momento della scelta Uomini e donne. Teresa e Antonio sono sempre più vicini.Teresa Langella è tra due fuochi Da un lato c'è Antonio, un ragazzo molto più giovane e prevedibile, dall'altro c'è Andrea Dal Corso, più maturo e cacciatore La tronista partenopea sembra sia molto presa da entrambi anche se l'uno si fida ciecamente, dell'altro per nulla La ragazza, poco prima di annunciare la sua decisione, ha dato luogo a delle esterne molto particolari, soprattutto con Antonio La Langella, infatti, ha rifiutato un'esterna con Andrea a cena per recarsi da Antonio Questo ha fatto, naturalmente arrabbiare il corteggiatore, ma non è tutto.Uomini e donne. Andrea Dal Corso annuncia che non si presenterà in villa alla scelta Teresa, infatti, ha dato luogo ad un'esterna bellissima con Antonio, durante la quale i due si sono anche abbracciati moltissimo La ragazza si è commossa, quando ha scoperto, che Antonio conserva un suo fazzoletto sporco di trucco I due, poi, hanno dato luogo a una seconda esterna dove ci è scappato, anche un bel bacio Andrea ha mantenuto il sangue freddo in studio, e, senza mostrare minimamente le sue emozioni, si è limitato ad informare Teresa che non si presenterà in villa al momento della scelta Sarà davvero così? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni di Uomini e Donne